Il palazzo che uccide. I palazzi sul canal grande che mostrino iscrizioni sulla facciata d'acqua sono veramente pochissimi. Oltre a K. Vendramin Calergi vi è K. Adoldo, del XVI secolo, quasi di fronte alla stazione ferroviaria, oltre il canalazzo, che ha una trifora superiore sulla cui sommità si può leggere, Bonum Est in Deo Sperare, e poi uno dei palazzi più celebri di Venezia, che deve la sua fama all'inspiegabile catena di miserie e di morti che da secoli colpisce i proprietari, al punto da avere ormai fama di dimora maledetta. K. Dario. Una vecchia cortigiana decrepita piegata sotto la pompa dei suoi monili, la descrisse Gabriele D'Annunzio nel parlare della facciata in pietra distria ornata di marmi policromi e inclinata su un lato destro, nella quale campeggia l'iscrizione, Urbis Genio Ioannes Darius. A edificarlo nel 1487 fu Giovanni Dario che otto anni prima, a Costantinopoli, aveva ratificato per la Repubblica la pace con i turchi. L'uomo aveva una figlia, Marietta, che sposando Vincenzo Barbaro fece acquisire a questa famiglia il palazzo portandolo in dote. Di lì a poco Giovanni Dario fu allontanato dal maggior consiglio e Marietta morì di crepacuore dopo i rovesci politici ed economici del marito, che finì in rovina non appena preso ufficialmente possesso dell'edificio. In seguito, Giacomo Barbaro, che abitò la casa nel 600, morì assassinato a Candia mentre viveva lì come governatore. Il palazzo fu acquistato allora da un ricco mercante di diamanti armeno, Arbit Abdol, ma la maledizione colpì ancora. L'uomo perse tutto, e morì in miseria. A volte anche gli ospiti del palazzo hanno subito la nefasta negatività dello stabile, come l'amico dello studioso inglese Rodon Brown, che assieme a quest'ultimo abitò il palazzo tra il 1838 e il 1842, e che si suicidò. Rodon Brown è conosciuto prevalentemente per le sue ricerche negli archivi veneziani. Arrivò a Venezia durante una vacanza. La città esercitò su di lui un fascino così forte che non riuscì più a lasciarla e qui rimase fino alla sua morte, 50 anni più tardi. Bisognerà aspettare un secolo per assistere a un episodio analogo. Il magnate statunitense Charles Briggs, altro proprietario, scappò dall'Italia per una scandalosa storia di omosessualità. I maligni sostenevano che invitasse un po' troppi marinai ai suoi festini. Il suo amante si suicidò poco tempo dopo, in Messico. Anche il conte Filippo Giordano delle Lanze, a cavallo tra gli anni 60 e 70, perse la vita nel palazzo, assassinato dal suo amante Raul Blasic. A sua volta l'uomo, fuggito a Londra e braccato dalla polizia, scomparve nel nulla. Quando gli agenti fecero irruzione nella sua camera d'albergo, trovarono in bagno gli abiti che indossava al momento della fuga dall'Italia ridotti in lunghe striscioline di stoffa. Ma dell'uomo, nessuna traccia. Morte violenta anche per Kit Lambert nel 1981, il manager del famoso complesso Rock The U, diventato proprietario di Ka, Dario, non si salvò dalla maledizione. Quando fece il suo ingresso nel palazzo, si lamentò che le macchie di sangue erano ancora sul pavimento della camera da letto. E sebbene i veneziani lo ricordino con affetto, per la sua generosità, non riuscì a scampare a una emorragia cerebrale che lo stroncò a 45 anni. Nulla potè contro il terribile potere occulto neppure il nuovo proprietario, Fabrizio Ferrari, un affarista veneziano, i cui capitali subirono un tracollo spaventoso, e la cui sorella Nicoletta che abitava la dimora veneziana fu trovata morta nuda in un prato, a pochi metri dalla propria auto. Fu allora che Ka, Dario fu acquistata da Raul Gardini, ricco imprenditore della chimica italiana, che coinvolto in vicende giudiziarie legate a mazzette e corruzione si tolse la vita con un colpo di pistola nel 1993, anche se in molti sostengono l'ipotesi di un'uccisione mascherata. A scampare alla tragica sorte fu invece il celebre tenore Mario del Monaco, che tornando da uno degli incontri per la trattativa d'acquisto ebbe un gravissimo incidente d'auto, in seguito al quale, ripensandoci, rinunciò al palazzo. Altro acquirente mancato sarebbe stato il regista new yorkese Woody Allen, che per un periodo si mise alla ricerca di una dimora veneziana in occasione dei suoi frequenti soggiorni in laguna. Ma il saggio Woody messo forse a conoscenza della storia del palazzo preferì optare ogni volta per la stessa suite del Gritty Palace, accontentandosi di ammirare Ka, Dario dalla terrazza della sua stanza. Sulla facciata del palazzo si può leggere appunto, Urbis Genio Ioannes Darius, frase che andrebbe tradotta come, Giovanni Dario al genio della città, anche se l'uomo rischiò un incidente diplomatico con la Serenissima per la possibile interpretazione al rovescio, la città al genio di Giovanni Dario. Ma la frase contiene un altro doppio senso dato dal suo anagramma. Sub ruina insidiosa genero, traducibile super giù come, genero insidiose rovine a chi abita sotto questo tetto. Dicerie. Superstizione. Se è vero che ogni palazzo veneziano ha storicamente il suo bagaglio di lutti e morti violente, è altrettanto vero che nessuna tra le dimore della città si è mai ammantata di una tale leggenda nera.